Benvenuti a Ferentino, campionato primavera 2, inizia ufficialmente la nuova stagione, prima giornata il Frosinone affronta la Juve Stabia, inizia il nuovo corso, kick-off è iniziata, adesso la partita è iniziata, quindi la nuova stagione, ancora Tonnetto prova a guadagnare il fondo, Tonnetto con il mancino, la mette in mezzo, il colpo di testa e il vantaggio del Frosinone con Orlandi al quinto minuto, cambia subito il parziale alla città dello sport di Ferentino, colpo di testa vincente di Orlandi, Frosinone 1, Juve Stabia 0 Il lancio lingo, cercare ancora Orlandi, occhio che partita in posizione regolare, ancora Orlandi entra in area di rigore, Orlandi va da solo e batte ancora Casilo, 2-0 Frosinone, ancora Orlandi, al trentatresimo il raddoppio del Frosinone di Marcella, ci pensa Orlandi Ancora della pietra, torna da Arcella, il cross in mezzo, battuta di Grimaldi che trova il gol, il numero 8 della Juve Stabia sul secondo palo, si è inserito molto bene alle spalle di Giordani trovando il gol del 2-1 Pallone a sinistra per Romano, altri suggerimenti in avanti, break del Frosinone, attenzione adesso è buona questa ripartenza della formazione giallazzurra, è buona anche la giocata con il pallone messo al centro per Luciani Che batte il numero 1 a Casilo e trova il gol che vale il 3-1 e che forse chiude la pratica, Juve Stabia, Luciani appena entrato, Frosinone 3, Juve Stabia 1 Può andare da solo all'interno dell'area di rigore, fino in fondo, è il gol del 4-1 del Frosinone a firma di Morelli, 4-1 del Frosinone, gol di Morelli Un gran diagonale da parte del numero 19 del Frosinone, Morelli, poker giallazzurro Insiste la formazione ospite, ma arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara, il Frosinone inizia benissimo il nuovo campionato